Sono di nuovo qui, sono sempre Carlo Lucarelli, questo è sempre Radio DJ e questo è DJ e adesso vi racconto un altro mistero che appartiene al mondo della musica. Attenzione, questo è il mistero di quello che accadde la notte dell'11 settembre. Ma non l'11 settembre del 2001, le torri gemelle e tutto il resto, no. L'11 settembre del 1987, la notte in cui morì Peter Tosh. La casa è una bella villetta di Barbica, un quartiere residenziale di Kingston in Jamaica e di proprietà di un signore che si chiama Winston Hubert McIntosh, ma se andate in giro per Kingston a cercare di lui con quel nome sicuramente non lo troverete. E anche nel resto del mondo, Winston Hubert McIntosh e chi è? Sono pochi a conoscerlo così, però se dite Peter Tosh allora, in Jamaica o nel resto del mondo, c'è un sacco di gente che può dire ma certo, è chiaro, Peter Tosh. Peter Tosh, per quei pochi che direbbero Peter Key, è uno dei più grandi musicisti in reggae, secondo come fama soltanto al suo amico ed ex compagno di band, Bob Marley. All'inizio erano loro due con i Wailers, il loro gruppo, uno un po' più buono, Bob Marley, e l'altro invece un po' più cattivo, Peter Tosh. Attenzione però, non tanto più e non tanto meno buoni e cattivi, perché comunque sono tutti e due giovani, giamaicani e neri, che vivono nel soborgo di Trenchtown tra gli anni 50 e 60, e quindi comunque sono abbastanza arrabbiati. Bob però, Bob Marley, era un po' più bianco, figlio di un capitano di marina inglese, mentre Peter Tosh era figlio di un predicatore nero, che dicevano avesse sparso per tutto il distretto di Church Lincoln, in Giamaica, almeno un milione di figli. Certo, neanche Bob Marley è un angioletto, naturalmente, lo chiamavano Tuff Gong, che in slang giamaicano vuol dire più o meno teppista, perché doveva difendersi dal razzismo sia dei bianchi che dei neri, visto che era un po' bianco e un po' nero, e finiva sempre a botte. Tosh però era più duro di lui, lui lo chiamano in un altro modo, lo chiamano Stepping Rezo, che è anche il personaggio di un libro di Gibson, e poi lo sarà dei fumetti della Marvel. Nello slang di Kingston, però, Stepping Rezo indica qualcosa di molto preciso, un teppista ancora più cattivo, uno con cui è proprio meglio non litigare. Peter Tosh suona assieme a Bob Marley e a Lee Whalers per alcuni anni, pubblicano un sacco di dischi, hanno un sacco di successi, poi però le loro linee piano piano cominciano a dividersi. Peter Tosh lascia Bob Marley e a Lee Whalers, e la sua musica diventa diversa, più dura, più impegnata, più politicamente scorretta. Era sempre stato così lui, un po' più nero, un po' più cattivo. Lui è Stepping Rezo, quello che non molla mai. Certo, Bob Marley è tough gong, è il teppista, ma lui è Stepping Rezo, è di più. Lo chiamano in un certo modo, lo chiamano Malcolm X con una band. Malcolm X, il leader dei diritti civili dei neri. Malcolm X con una band. È un mistico e un rivoluzionario, oltre che un grande musicista. È duro, ironico e sensibile. E c'è una leggenda che dice che Peter Tosh suona sempre con gli occhiali neri per un motivo ben preciso. Cerca di nascondere le lacrime, perché quando canta si commuove e non vuol farlo vedere, perché lui è Stepping Rezo. È arrabbiato Peter Tosh, è anche molto provocatorio, fa giochi di parole. Il sistema, per esempio, The System, in inglese, lui lo chiama in un altro modo. Lo chiama Shitstem, dove shit, lo sanno tutti, significa merda. Ora, Peter Tosh canta di razzismo, canta di apartheid, canta contro gli Stati Uniti, canta di ingiustizia e di corruzione. E attenzione, ne ha sia per il governo che per l'opposizione. Canta Legalize It, per la legalizzazione della marijuana, che in Giamaica ha un nome particolare, una varietà particolare, si chiama Ganja. Non è soltanto un fatto di libertà, di antiprobizionismo, di vizio, se volete, è anche un fatto religioso. Peter Tosh fa parte della religione rastafariana e lì la Ganja ha un'importanza religiosa, quasi culturale. Però attenzione, la Ganja è proibita, il fumo è proibito in tutto il mondo, è illegale. E quindi Peter Tosh, naturalmente, ha un sacco di guai con la polizia. La prima volta i poliziotti lo vengono a prendere a casa nell'estate del 72. E lo pestano tanto che quando si risveglia si ritrova all'ospedale, piantonato dalla polizia. Poi succede altre volte, ma soprattutto dopo che ha attaccato i politici giamaicani, in diretta mondiale, durante un concerto, One Love Peace Concert, nell'aprile del 1971. In settembre, la polizia lo ferma perché sta facendosi una canna per la strada. E lo massacra di botte, per 90 minuti, rompendogli la testa e le braccia, e lasciandolo quasi in coma. Lui però non molla, attenzione, lui è Peter Tosh, lui è stepping reso, uno con cui è meglio non litigare. Fino a quella notte, 11 settembre 1987. Sono le sette e mezzo di sera e Peter Tosh è al piano di sopra della sua villetta, in quel quartiere residenziale di Kingston, in Jamaica, con la sua compagna e alcuni amici. C'è un rumore giù di sotto. Ci sono voci che sembrano grida, alti, isteriche, parole veloci. Arrivano vattate, molto lontane. Michael, un amico di Peter, è sceso giù per aprire la porta. E adesso però urla proprio. Urla un nome. Leppo. Ma chi è Leppo? Leppo è Dennis Loban, Leppo è il suo soprannome, ed è un balordo che entra e esce dalle prigioni di tutta la Jamaica. Con lui ci sono anche due tizi sconosciuti, due tizi brutti però, delinquenti come Leppo, e sono tutti e tre armati di pistola. Peter e Marlene, la compagna di Peter Tosh, anche il suo manager, e gli altri amici, fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Se ne stavano tutti lì, sui cuscini del soggiorno, a fumare la gangia, tranquilli. E adesso, ecco che arriva Leppo, con una Browning automatica calibro 9, che urla a tutti di stendersi sul pavimento. Vuole i soldi, subito. Ma come? Ma non era un amico, Leppo. Lui lo conosceva a Peter Tosh. Si erano incontrati tante volte. Peter Tosh lo aveva sempre aiutato, tante volte, quando usciva di galera, e non aveva un soldo. Adesso però, Leppo sembra impazzito. E bisogna starci attenti, perché si è beccato 15 anni per due tentati omicidi, è un tipaccio, poi ci sono anche gli altri due con lui, armati anche loro, quindi occhio. Leppo vuole i soldi, dice che ne ha bisogno. Peter gliene ha già dati tanti, ma lui ne vuole di più, e quella praticamente è una rapina. Ora, Peter Tosh però di soldi in casa non ne ha. Marlene lo dice, loro non ne tengono di soldi, non ne hanno bisogno. Nel frattempo, qualcuno ha suonato alla porta. Sono altri amici di Peter Tosh, i Dixon, Jeff Free Eye, un famoso DJ di Kingston, e sua moglie Joy. Anche loro finiscono stesi sul pavimento, sotto il tiro delle pistole di Leppo e dei suoi amici. Fuori soldi. Bene, in tutto saltano fuori 200 dollari giamaicani, più altri 400. Leppo non ci crede, sono una miseria. Il suo amico Peter Tosh è un musicista famoso in tutto il mondo, è una star del reggae, deve essere ricco. In quella casa ci devono essere sicuramente un sacco di soldi. Peter Tosh è una star del reggae. I suoi album, da Legalize It fino a Equal Rights e ancora fino a Mama Africa e all'ultimo No Nuclear War, che è del 1987, hanno venduto un sacco di copie. Ha inciso per la Emmy e per l'etichetta dei Rolling Stones. Però di soldi in casa non ne ha proprio. E Peter Tosh, mica uno di quei ragazzini dell'hip hop coperti d'oro e di oggetti di lusso, coi catenoni e gioielli. Ma soprattutto lui è step il reso, attenzione, è uno con cui è meglio non litigare. Così Peter Tosh reagisce. Affronta Leppo e gli dice di andarsene, anche se è armato. Uno degli uomini di Leppo cerca di staccargli dal collo la catenina, ma Peter lo blocca. Discutono ancora, alzano la voce. Step il reso non molla, ed è allora che scoppia l'inferno. Leppo si mette a sparare, lì in quella stanza. Prima un colpo, quasi gli fosse sfuggito, che sfiora la testa di Marlene. Le passa tra i capelli, ferendole il cuoio capelluto, entra nella bocca di Joy, che stava dietro, ed esce dall'altra parte. Le due donne cadono a terra in un lago di sangue. Attenzione, non si sono fatte quasi niente. Non sono neanche ferite gravemente, però sembrano morte, c'è tutto quel sangue. Leppo perde la testa. Resta qualche secondo immobile. Poi si volta verso Peter Tosh, gli appoggia la canna della pistola alla testa e spara due colpi. Poi cominciano a sparare anche gli altri. Nove colpi. Uno degli amici di Peter Tosh viene ferito e poi finito con un colpo in testa. E anche Jeff, il DJ, viene ferito e poi finito con due colpi. Sparano anche a Michael, che è caduto dietro un tavolino da caffè ferito, però non muore. Quando pensano di averli uccisi tutti, lei e poi i suoi scappano. Peter Tosh viene portato di corsa allo University Hospital di Kingston. Non arriva neanche all'ospedale. Quando muore, Peter Tosh ha 43 anni. Il suo amico Bob Marley lo aveva preceduto nel 1981 per un melanoma, un cancro della pelle, mai curato, che aveva finito per uccidere. Appena sente che lo cercano per tre omicidi, Leppo, si consegna alla polizia. Dennis Lobal, detto Leppo, venditore ambulante, raggiudicato per rapine o omicidio, viene processato e in dodici minuti viene condannato a morte. Attenzione però, il mistero resta. Non sarebbe una storia delle nostre se non lo fosse, se fosse tutto chiaro. C'è qualcuno che comincia a chiedersi delle cose, delle cose molto particolari. Perché va bene, Peter è stato ucciso durante una rapina, per caso. Kingston è un postaccio, la Giamaica lo è in quel momento, è violenta, succede. È una rapina in una villa, che è finita male. Però qualcuno comincia a chiedersi, e se non fosse proprio così? Se non fosse stata una rapina? Se non fosse stato un caso, Leppo che ha bisogno di soldi? Se fosse stato un complotto? Se fosse stata, che si chiede qualcuno, l'esecuzione di un intellettuale scomodo, come Peter Tosh, che rompe le scatole a tutti, che diceva, essere musicista vuol dire condannare le ingiustizie e guardare in faccia la realtà, per terribile che sia. Nelle sue canzoni lo ha fatto, ce n'aveva per tutti, opposizione, governo. Lo chiamavano, lo abbiamo visto, Malcom X con una band. E Malcom X, il leader dei diritti civili dei neri negli anni 60, come è finito? L'hanno ammazzato. E mica per una rapina. L'hanno ammazzato perché dava fastidio. Gli hanno sparato. Certo, la dinamica della morte di Peter Tosh può sembrare anche molto chiara. Abbiamo un reo confesso. Abbiamo Leppo, che ha confessato. Leppo ancora in galera. Lo avevano condannato a morte con una sentenza velocissima, a 12 minuti e via. Però poi, nel 1995, gli hanno commutato la sentenza di morte in Ergaston. E da allora Leppo è in galera e racconta sempre la stessa storia. Però, quando uno come Peter Tosh muore in quel modo, così all'improvviso, così per caso, dopo che hanno cercato di ammazzarlo di botte un sacco di volte, uno come lui, uno scomodo, ma soprattutto uno come Steppin Rezo, l'uomo che non cede mai, quando uno così viene ucciso con un colpo in testa per una rapina, in una maniera così banale, beh, qualche dubbio, anche se nella realtà non c'è. Ci può sempre stare.